La nostra nazionale finalmente ci ha dato una bella soddisfazione vincendo il Rimont contro la Francia per 3 a 1. Ed erano veramente tantissimi anni che l'Italia non batteva la Francia e una partita, come sappiamo bene, difficilissima sulla carta, infatti era iniziata tutto in salita perché dopo pochissimi secondi la Francia era riuscita a passare in vantaggio. Però questa volta l'Italia è riuscita a rimontare questa partita, partita che ha segnato il ritorno nazionale anche di Sandro Tonali. Sappiamo che lui è stato squalificato per via delle scommesse e il suo rientro in nazionale possiamo dire che si è visto perché sono un giocatore che ha sempre avuto delle buonissime qualità. E si è visto anche nella partita contro la Francia. Voglio chiederti che cosa ne pensi di questo ritorno nazionale di Sandro Tonali. Scrivi la tua opinione nei commenti. Ovviamente io ti invito anche ad iscriverti al canale YouTube, al mio canale YouTube, per rimanere aggiornato sui prossimi video in uscita. E noi a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao!